Artigianato abruzzese dall'andamento catastrofico, sono i numeri ufficiali purtroppo a raccontare che nel trend negativo generale con il secondo semestre 2009 si è toccato il fondo delle iscrizioni, meno 37% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Tra aprile e giugno 672 le nuove imprese iscritte all'albo contro 590 cancellazioni per un saldo attivo di 82 unità. Nel 2008 invece si contavano 1059 iscrizioni contro 774 cancellazioni per un saldo di più 537. Le cause per la CNA sono da attribuire alla crisi e al terremoto il cui effetto ha combinato. Nell'Aquilano la caduta sfiora il 52% ma ci sono 12 imprese in più. La maglia nera spetta invece a Pescara che finisce sotto zero, 170 iscrizioni, 184 cancellazioni. Chieti si colloca appena un gradino sopra, si condano infatti 200 iscrizioni contro 138 cancellazioni. A Teramo risultano invece 170 iscrizioni contro 148 cancellazioni, il credito. Se il poco ossigeno al mondo della piccola impresa era arrivato nel 2008 dalle banche di minori dimensioni, il primo semestre del 2009 ha invece eliminato questa residua anomalia. Rubinetti chiusi per le PMI da parte degli istituti bancari, qualche ne sia la dimensione. Graziano Di Costanzo, direttore di CNA Abruzzo, commenta questi dati. Oltre alla nuova legge, che è quasi pronta, servono risorse e bisogna mettere mano alla sanità. Se non si copre il buco, non andiamo da nessuna parte.